Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse, persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case che sono dei casi irrisolti, rimasti sempre aperti che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Se questi video possono interessarvi allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qual volta pubblico un nuovo video. Per voi è un piccolo gesto ma per me ha un grande significato perché in questo modo contribuirete a supportarmi nel mio percorso su youtube. Grazie! Oggi amici vi porto un caso italiano ed è un caso diciamo anche abbastanza recente perché si è svolto nel 2020. Come sapete non amo portare casi italiani proprio perché per quanto riguarda i casi italiani è sempre molto difficile trovare online informazioni o quantomeno informazioni che siano vere e che non ci sia stato ricamato sopra da qualche testata giornalistica. Anche perché se questo dovesse accadere e il video arriva alle famiglie delle persone di cui racconto la storia immagino che potrebbero infastidirsi ecco perché comunque cerco sempre di verificare le informazioni che trovo online. Oggi amici vi racconto il caso della scomparsa di Alessandro Venturelli. Su questo caso non ci sono tantissime informazioni quindi sicuramente non verrà un video molto lungo però ci tengo davvero a raccontare questo caso perché secondo me non ha avuto abbastanza riscontro mediatico ecco e più persone ne parlano più persone raccontano la sua storia più probabilità secondo me c'è che se qualcuno lo vede possa riconoscerlo e contattare magari la famiglia. Anche perché come sentirete fra poco secondo me ci sono buone probabilità che questo ragazzo sia ancora vivo e si trovi da qualche parte. Alessandro Venturelli è un giovane ragazzo di soli 22 anni che scompare letteralmente nel nulla a Sassuolo vicino Modena quindi in Emilia Romagna il 5 dicembre del 2020. Alessandro viene descritto dagli amici e dalla famiglia tutto sommato come un ragazzo allegro un ragazzo molto simile a tanti ragazzi della sua età con molti amici gli piaceva scherzare andare in discoteca divertirsi e soprattutto desiderava un giorno andare a vivere in Olanda. Il ragazzo è un appassionato di moto, passione che condivide con suo padre Roberto ed è anche appassionato di calcio in particolar modo della squadra della sua città ovvero il Sassuolo. Alessandro ambiva ad avere successo nella vita infatti voleva diventare una persona con un lavoro importante e trascorreva molto del suo tempo a leggere libri motivazionali di crescita personale che davano consigli su come diventare imprenditori di se stessi quindi una sorta di manuali, strategie per diventare ricchi ed avere successo nella vita. Con il passare del tempo però secondo anche la testimonianza dei genitori Alessandro inizia un po' a fissarsi con questa cosa ed inizia a convincersi con l'idea che il mondo fosse governato solo dal dio denaro e che solo con i soldi si poteva fare qualsiasi cosa o si poteva comprare qualsiasi cosa addirittura persino la felicità. Dieci giorni prima della sua scomparsa Alessandro inizia un po' a cambiare infatti sempre secondo la testimonianza dei genitori pare che poco tempo prima di scomparire Alessandro fosse diventato un po' chiuso particolarmente rabbioso e aggressivo soprattutto nei confronti della madre ma anche un po' preoccupato. confida a sua sorella di sentirsi manipolato però senza specificare da chi o perché ma generalizza un po' nel senso che dice di sentirsi manipolato dalla sua famiglia in particolar modo da sua madre ma anche dalle persone che conosceva insomma praticamente le dice di sentirsi un manichino all'interno della sua stessa vita e della società. Inoltre nell'ultimo periodo aveva iniziato ad essere un po' paranoico come se si sentisse perseguitato da qualcuno ed aveva iniziato a segnare le targhe delle auto che passavano spesso davanti alla sua abitazione. Non si sa bene il motivo però sappiamo che la sua attenzione venne catturata da un paio di auto che passavano spesso davanti alla sua abitazione come ad esempio una bmw bianca di cui però non conosciamo nient'altro perché il foglio su cui alessandro segnava le targhe di queste auto non si è più trovato praticamente probabilmente è stato fatto sparire da alessandro o comunque è stato portato via dal ragazzo. I genitori dichiarano di avere effettivamente notato un cambiamento in alessandro dopo che quest'ultimo aveva letto un libro che se non mi sbaglio gli era stato regalato da un amico intitolato il potere del cervello quantico. Il libro che io non ho letto però da quello che ho capito e che ho letto online promette o comunque offre semplicemente un modo più facile di affrontare la vita attraverso alcune teorie e l'unione delle nostre azioni insomma promette di cambiare la vita di tante persone. Il 5 dicembre del 2020 alessandro dopo aver avuto una lite con i suoi genitori di cui però non ho trovato il motivo online o comunque non è specificato. Comunque dopo aver litigato con i suoi genitori prova a scappare di casa con in spalla il suo zaino di pelle nera. Ora io cercherò in tutti i modi di inserirvi le riprese delle videocamere di sorveglianza dell'abitazione di Alessandro e della sua famiglia perché abbiamo il filmato che riprende Alessandro che prova a scappare sperando ovviamente che youtube sia clemente però prima vorrei cercare di spiegare quello che andremo a vedere insieme fra poco. Nel video si vede Alessandro in quello che potremmo definire un atto ribelle proprio dovuto alla lite che c'era appena stata con i suoi genitori che tenta di scappare però suo padre Roberto riesce proprio a placcarlo per cui riesce a fermarlo lo trattiene con la forza e lo riporta in casa. Una volta che lo riporta in casa riesce a calmarlo momentaneamente e gli propone di andare a farsi un giro insieme in macchina per sbollire un po' la rabbia e per parlare con calma. I due quindi escono di nuovo di casa Alessandro e suo padre e salgono in macchina. La famiglia però aveva un cagnolino e quando salgono in macchina quindi escono di casa lasciano involontariamente il cancelletto aperto e il cagnolino riesce ad infilarsi e a scappare via per cui il padre che si trovava in macchina insieme ad Alessandro vede questa scena e scende subito dalla macchina per andare a prendere il cagnolino che era appena scappato. Riesce a recuperarlo lo riporta in casa ma mentre fa questo però Alessandro scompare letteralmente nel nulla e di lui non è stata ritrovata più alcuna traccia. Grazie a tutti. Ora l'ipotesi più probabile è che appunto Alessandro mentre si trovava in macchina con suo padre intanto che il padre era sceso per recuperare il cagnolino e lo aveva riportato dentro lui si è scappato. Questa ovviamente è l'ipotesi più probabile ma secondo me anche l'unica possibile con ogni probabilità. Quel giorno quando Alessandro scompare aveva nello zaino e questo lo sappiamo perché suo padre la prima volta quando lo aveva fermato e lo aveva riportato in casa i genitori avevano visto che cosa avesse nello zaino e nello zaino praticamente aveva un telo di plastica, dello scotch, del lago, del filo, alcuni cambi di biancheria intima e i documenti però aveva lasciato volontariamente a casa il suo cellulare quindi uno smartphone e il computer però aveva portato con sé un cellulare di vecchia generazione quello senza il gps quindi comunque delle cose un po' strane da portare un telo di plastica, dello scotch a questo filo sembrava quasi un kit di sopravvivenza praticamente. Alessandro quando scompare aveva indosso una giacca a vento blu, una felpa con cappuccio grigia, pantaloni di tuta grigi e scarpe da ginnastica. Ha una rosa tatuata sull'avambraccio sinistro, una data scritta con numeri romani e un quadrifoglio tatuati sul polso sinistro. Ha orecchini ad entrambi i lobby ed una cicatrice all'altezza del collo dovuta ad un incidente avvenuto in moto nel 2018. I genitori ovviamente denunciano la scomparsa dei carabinieri ma gli inquirenti rispondono alla famiglia che Alessandro era maggiorenne, si trattava palesemente di un allontanamento volontario e che quindi c'era ben poco che potessero fare, sempre per quella questione che un adulto ha il diritto di scomparire qualora desideri farlo. Il 6 gennaio del 2021, quindi un mese dopo la scomparsa di Alessandro, Raul Casadei, un musicista e compositore italiano, vede sulla spiaggia Cesenatico, quindi a circa due ore di distanza da Sassuolo, un ragazzo che riconosce ed identifica come Alessandro e lo nota perché non portava la mascherina, eravamo diciamo ancora in pandemia, quindi lui lo nota per questo motivo e nota anche che il ragazzo si trovava sulla spiaggia con una tenda e che stava parlando con una ragazza. L'uomo ascolta la conversazione tra questi due giovani e sente quello che presumibilmente era Alessandro dire alla ragazza che la sua intenzione era quella di vivere senza soldi perché i soldi erano il male. Però purtroppo non sappiamo nulla di più, anche perché poco tempo dopo Raul Casadei, quindi questo testimone, muore. Per un altro mese però purtroppo non si hanno ulteriori notizie, quando il 18 febbraio, quindi più di due mesi dopo la scomparsa di Alessandro, viene diffusa una foto che ritraeva due ragazzi alla stazione di Milano. I due ragazzi erano l'uno accanto all'altro, uno più basso ed uno più alto e quello più basso viene inizialmente riconosciuto proprio come Alessandro Venturelli, anche se era vestito in maniera totalmente differente da come Alessandro vestiva solitamente. Ed in sua compagnia l'altro ragazzo che viene fotografato viene inizialmente riconosciuto come Stefano Barilli, un altro giovane scomparso da Piacenza il 7 febbraio del 2021, quindi pochissimo tempo prima, ed aveva 23 anni. Dico aveva perché purtroppo il corpo di Stefano è stato ritrovato. Ora, una cosa che effettivamente accomunava i due ragazzi è che anche Stefano, prima di scomparire, aveva iniziato a fare dei discorsi molti incentrati sul fatto di voler diventare imprenditore di se stesso e di voler fare molti soldi prima di compiere 30 anni. Inoltre Stefano era iscritto e seguiva diversi corsi, sempre sulla stessa scia dei manuali che invece leggeva Alessandro, quindi sull'imprenditorialità. I genitori di entrambi i ragazzi intrecciano quindi un rapporto di amicizia ma anche di supporto psicologico perché erano convinti ed effettivamente se si guarda questa foto si può credere che si trattasse proprio dei due ragazzi scomparsi e che quindi i due fossero legati in qualche modo oppure che facessero parte di una qualche psicosetta. Ed in effetti dalla foto è incredibile la somiglianza di queste due persone ritratte ad Alessandro e a Stefano. Il 31 marzo però due ragazzi che erano due studenti di architettura dell'università di Milano si fanno avanti per dire che in realtà le persone ritratte in foto erano loro e che effettivamente somiglievano moltissimo ad Alessandro e a Stefano però in realtà non erano né Alessandro né Stefano ma erano questi due ragazzi. Il 17 aprile viene infatti ritrovato il cadaveri di Stefano Barilli completamente decapitato all'interno del fiume Po e all'interno della tasca dei suoi pantaloni vengono ritrovati i suoi documenti di identità ed un biglietto coscritto che era stato un gesto volontario quindi praticamente si era suicidato. Ora anche qui ci sarebbe da dire molto su questo caso però come sapete io nel mio canale tratto solo casi di persone scomparse per cui magari se non conoscete il caso di Stefano Barilli vi potete informare online oppure guardare alcuni video che sono stati fatti su YouTube. In particolar modo vi consiglio il video di Bugalalla che è fatto veramente bene e spiega più o meno tutto nei minimi dettagli. Sappiate comunque che si tratta di un caso molto strano sia per come è stato ritrovato il corpo e sia per il bigliettino che è stato lasciato in cui si parla di gesto volontario. Più o meno nello stesso periodo gli inquirenti decidono di attivarsi ed iniziare le ricerche nei confronti di Alessandro per cui organizzano diverse squadre di ricerca anche con l'aiuto di cani molecolari, vigili del fuoco, protezione civile e cercano Alessandro a Sassuolo in periferia sulle colline, nel fiume Secchia e anche nelle zone circostanti però purtroppo queste ricerche non danno alcun risultato. Piccola interruzione per dirvi che gli inquirenti controllano anche il cellulare, lo smartphone che Alessandro aveva lasciato volontariamente a casa però si accorgono che tutti i dati erano stati precedentemente cancellati. Riescono comunque a recuperare un messaggio ed una chiamata che Alessandro aveva fatto poco prima di scomparire però purtroppo non riescono a rintracciare il destinatario che rimane ancora oggi sconosciuto. In questo periodo viene anche fatto un appello che riguardava appunto la scomparsa di Alessandro in un programma olandese che trattava casi di persone scomparse perché come vi ho detto prima Alessandro amava particolarmente l'Olanda e sul suo computer erano state trovate traccia di alcune ricerche che Alessandro aveva fatto nell'ultimo periodo che riguardavano questo paese e soprattutto era stato trovato un curriculum che Alessandro aveva inviato poco tempo prima di scomparire proprio in Olanda. Inoltre molte delle sue ricerche riguardavano proprio luoghi dove potersi nascondere. Cioè lui scriveva proprio così su internet scriveva luoghi dove potersi nascondere oppure scriveva ancora come mollare tutto e sparire per sempre e questo secondo me è davvero molto indicativo cioè questo fa effettivamente presupporre che il ragazzo si sia allontanato volontariamente che sia stata una sua decisione. Ad ottobre del 2022 quindi pochi mesi fa viene effettivamente segnalato l'avvistamento di un giovane molto somigliante ad Alessandro ad Amsterdam. Una donna che vive nella capitale ha infatti contattato gli inquirenti per segnalare loro di aver visto ve lo leggo proprio testualmente. Ho visto Alessandro oggi nei pressi di Amsterdam vicino alla biblioteca e ad un parco. Sembrava un vagabondo ma in qualche modo era curato. Aveva un bel viso, indossava scarpe con un laccio nero e uno bianco, una giacca e pantaloni larghi neri. Erano circa le 16 e 45 del pomeriggio. La famiglia di Alessandro ma in particolar modo sua madre Roberta si è recata in Olanda e ha girato il lungo e il largo nel tentativo di cercare degli indizi che potessero ricondurla al figlio però purtroppo è rientrata a mani vuote. Ad oggi purtroppo sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Alessandro e non ci sono novità. I genitori comunque pensano che il figlio possa effettivamente aver programmato la sua fuga però con la complicità di qualcun altro e che quindi potesse essere entrato a far parte di qualche psicosetta visto anche i cambiamenti di Alessandro soprattutto nell'ultimo periodo. È stata anche aperta una pagina sia su Instagram che su Facebook dedicata proprio alla scomparsa di Alessandro e sui social sua mamma Roberta scrive la tua dolcezza e la tua sensibilità sono nel mio cuore due anni dopo la tua scomparsa. Il tuo silenzio addolora ma siamo anche carichi di speranza. Ti aspettiamo. Voglio rivolgermi a tutti coloro che hanno a cuore la storia di Alessandro e ai tanti che hanno raccontato le dinamiche della scomparsa. Chiedo a tutti di continuare a cercare e condividere sui social locandine e foto. Spero che qualcuno incontri mio figlio. Chiunque abbia notizie pregato di raccontare tutto alla polizia locale affiancando alla segnalazione una foto. Voglio ringraziare tutti voi per i messaggi in questi giorni terribili ma al momento sono molto provata. Spero sempre che arrivi una bella notizia. Quindi il mio consiglio se avete sia facebook che instagram oppure uno dei due social è quello di iscrivervi e di seguire le pagine dedicate appunto alla scomparsa e alla ricerca di Alessandro e di rimanere sempre aggiornati perché veramente Alessandro potrebbe essere ovunque. Chiunque di noi infatti potrebbe incontrare Alessandro o magari incontrare una persona che potrebbe somigliare a questo ragazzo perché comunque sono trascorsi due anni quindi esteticamente potrebbe comunque essere un po cambiato. E se dovesse succedere se avete anche il minimo dubbio io vi consiglio di segnalare lo stesso perché mal che vada la segnalazione verrà verificata e non verrà confermata però almeno il tentativo è stato fatto. Queste purtroppo sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Spero in futuro di darvi un qualche aggiornamento positivo. Come sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi. Vi chiedo come sempre di essere anche rispettosi nei commenti nei confronti di questo ragazzo e soprattutto della sua famiglia e del difficile momento e soprattutto della sofferenza che stanno attraversando. personalmente credo che Alessandro sia ancora vivo e che si trovi da qualche parte. Molte piste portano in Olanda e sono pronta a credere che effettivamente il ragazzo si trovi lì. O magari potrebbe anche trovarsi in Italia però in base alle ricerche che il ragazzo ha fatto poco prima di scomparire secondo me ci sono più probabilità che si sia recato all'estero. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo caso nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se vi va seguitemi anche su Instagram mi trovate come marianna-molinaro oppure su TikTok mi trovate come svaniti nel nulla. Grazie di essere arrivati fino a questo punto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!